L'Ibano si contano almeno 24 vittime e un'ottantina di feriti nelle due esplosioni che si sono verificate questa mattina nel quartiere di Birazan, nella parte sud della capitale, di fronte alla sede dell'ambasciata iraniana. Secondo una fonte vicina ai servizi di sicurezza, si tratta di un'autobomba. Secondo un'altra, due razzi sarebbero stati sparati contro l'ambasciata. Almeno sei edifici sono stati danneggiati nelle vicinanze. Non è chiaro se il personale dell'ambasciata sia stato coinvolto. Le fiamme hanno toccato i molti veicoli parcheggiati nelle vicinanze. Subito dopo l'esplosione, i testimoni e i soccorritori si sono precipitati sui corpi per sottrarli alle fiamme. In questa via residenziale di Birazan, quartiere vicino alla linea costiera della città, sorge l'ambasciata iraniana, ma anche la sede di Hezbollah o Partito di Dio, partito politico sciita libanese. La tensione a Beirut resta alta e il conflitto in Siria ha inasprito le relazioni tra sunniti e sciiti. L'attacco non è stato rivendicato, ma nella vicina Siria i ribelli contro il regime di Bashar al-Assad, in maggioranza sunniti, hanno minacciato più volte di attaccare gli alleati sciiti di Damasco, tra cui l'Iran e gli Hezbollah libanesi. Si tratta del terzo attentato in questa zona della capitale, considerata la roccaforte di Hezbollah.